Ciao ragazzi! Questa sera ce n'erò lì, aspetta non si vede, dove ce n'erò? Lì, 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 lì. Alice e Daniel non ci sono, però sono col marito, ciao! Chissà come sarà, saremo altissimi, 50 metri e penso che sarà molto interessante. Ci siamo, tra poco saliamo! Ciao! 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 Grazie a tutti. Proviamo a girarci, speriamo che non cade il cellulare di sotto. Reggi di forte. Aiuto. Il papà soffre di vertigini. Ho sento io la cosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.